Siamo qui, siamo qui per Michela Murgia, ma soprattutto con lei. Non siamo qui per commemorare, non siamo qui per celebrare, ma siamo qui per provare a ragionare e immaginare insieme a lei. E' stato detto, io non mi ricordo più se nell'intervista a lei o nell'intervista a Vera o a Cati, che lei non era mai neutrale. Chi l'ha detto di voi due? Lei. Ebbè è molto vero, in fondo la non neutralità, a prescindere dal fronte, dalla posizione, dallo sguardo sul quale ti trovi, è il vero sale della vita, è il presupposto di un principio di responsabilità che riguarda se stessi, riguarda gli altri e che ci coinvolge tutti. E' molto vero che, a prescindere da dove fosse, Michela non era mai neutrale. E questo dice tanto sul suo impegno, sulla sua passione, sulla sua voglia di vita. Prima di dare la parola a loro due, che sono insieme a Michela, le vere star della serata, permettetemi un aneddoto personale molto recente. Ieri sera la mia piccola caldaia domestica si è spenta completamente e io per più di 24 ore sono stata senza riscaldamento, in questa città fredda e invernale e senza acqua calda. Prima di venire qui, stasera, mi sono fatta una delle docce più appassionanti e lunghe della mia vita. E' banale dirlo, ma vale la pena ripeterlo, che tante cose che sono scontate e ovvie, capisci quanto contano nel momento in cui non le hai più, forse anche solo per un momento. Ed è per questo che noi da un po' qui al circolo e più che mai stasera ragioniamo su presenze, vere presenze e assenze. Vere presenze, lo ricordo ancora una volta, è un binomio di parole forti che dobbiamo a George Steiner, per lui le vere presenze sono l'esperienza immersiva e trasformante che è la lettura, o che è comunque il confronto con l'opera d'arte, non solo la lettura. Ed è giusto quindi ragionare su presenze e assenze, su come si legano per noi, con noi e dentro di noi, più che mai questa sera direi. Questa sera con Michela Murgia, con Vera Gheno e con Catti Latorre abbiamo deciso, scelto insieme, di farlo sul fronte delle parole. Su quanto contano le parole, le parole che ci definiscono, perché siamo quello che parliamo, siamo quello che diciamo. Su quanto contano le parole presenti e anche quelle assenti. Tempo fa a Catti Latorre io devo una consapevolezza che è stata una scoperta, cioè l'importanza del consenso. Tu mi hai spiegato qui un po' di mesi fa. Quanto conta dire sì, volerlo dire, e quanto conta non dire no. Quanto è dirimente, quanto è fondamentale il consenso nei nostri rapporti, non solo sessuali, ma quotidiani. Contano quindi, pesano le parole che ci sono, ma pesano anche quelle che non ci sono. Per cui a me piacerebbe ragionare stasera insieme a voi, o meglio ascoltarvi, su un terreno in cui le parole sono soprattutto assenza. E noi dobbiamo imparare a riconoscerla, questa assenza. Quel terreno è la famiglia, che è un terreno che era così caro, che è così caro e così cruciale per Michela e per tutti noi. E come sempre la realtà e la vita sono un passo avanti rispetto alle leggi, alle istituzioni, alla politica. Pensate a che cosa è la famiglia oggi, quale kaleidoscopio di possibilità offre la vita in famiglia oggi. Pensate a quante poche parole ci sono per raccontarla. Pensate al fatto che le parole italiane sulla famiglia sono o neutrali o dispregiative. fratellastra, patrigno, matrigna, fratellastro. Mentre oggi come oggi la realtà è tutta diversa, è tutta più plurale, più da inventare. Ecco, io vorrei, se siete d'accordo, ragionare sulle parole che ci sono e insieme a Michela ragionare su quelle parole che nella famiglia, per la famiglia e con la famiglia, mancano, in fondo forse dobbiamo provare a inventarle. Che stai indicando me? Cioè vi stai passando la patata bollente? Vabbè, la serata è sulle parole, quindi tocca anche a te parlare a un certo punto di parole. No, perché lei è furba. Che stia molto zitta, ma... Allora, intanto buonasera. Torno sempre volentieri in questa sala e anche se quando devo parlare di me è un'altra faccenda. Parlare di Ada Inconsuper tra Fra e Michela è difficile. Oggi, durante un'intervista prodromica a questo incontro, mi è stato chiesto se fossimo amiche. Io non credo di poter dire di essere stata amica di Michela nel senso tradizionale, però rispondo sempre che sentivo per Michela una forma di sorellanza. Nel senso che sono quelle persone che tu hai nel tuo intorno, anche digitale, alle quali sai che puoi mandare tutte le cose che ti fanno incazzare e che lei risponde. È stata una presenza molto trasversale nella mia vita. Abbiamo discusso molto spesso, ma c'era sempre questo filo di comunanza quasi appunto, di appartenenza a una famiglia che io ho sentito per lei, che è un po' diverso dall'essere amici, perché la sorellanza può essere anche con qualcuno con cui non condividi tutte le idee, magari invece uno gli amici li sceglie più su misura. E quindi è una cosa un po' strana parlare, per me, parlare di Michela ancora più strano quando ogni tanto mi capita che su certe cose qualcuno mi identifico come una delle eredite di, perché ovviamente non mi ci sento, però sicuramente sono una persona delle tante sulle quali Michela con la sua esistenza, con il suo modo di fare, con le sue parole, con le sue lotte, con le sue convinzioni, con i suoi vaffanculo, ha avuto un grande ascendente. Quindi è qui, è presente. Non posso dimenticare il discorso bellissimo che ha fatto Chiara Valerio alle sue esecue. e per me ogni volta che alzo lo sguardo al cielo c'è Michela che splende o Michela che piove o Michela che nebbiosa, quindi anche questo è diventato una specie di meme della mia vita. Detto questo, sulla questione famiglia queer non ho discusso direttamente con Michela, ma mi è capitato dopo la sua dipartita di discutere con altre persone che obiettavano sul fatto che Michela non avesse mai apertamente esposto il suo orientamento sessuale. Cioè non sappiamo con chi andasse a letto, giuro mi è stato scritto proprio così. E questo, secondo alcune persone che hanno interpellato me, la rendeva non competente nel parlare di queerness. Perché in una certa accezione queer vuol dire tutto ciò che non è etero cis, no? Quindi o non sei eterosessuale o non sei cisgender o sei agender o sei qualcos'altro ma comunque non sei etero cis e allora ti puoi dire queer. Nell'accezione originaria però queer vuol dire semplicemente strano. È una delle tante parole che la comunità si è ripresa, Una comunità prima chiamata in maniera dispregiativa con un certo epiteto si riprende l'epiteto, no? Se lo riconquista il reclaiming e poi lo usa come una forma di, come dire, di annullamento della semantica negativa, no? Quindi io sono queer e sì, mi definisco queer. È un po' come in realtà queer è come diverso in italiano. Se voi andate a vedere la definizione di diverso sul vocabolario uno dei tanti significati di diverso è omosessuale e su questo ho avuto un'altra discussione con Stefano Guerrera ma questo è un altro film. Comunque, quindi per me quello che Michela ha portato avanti col suo corpo, con la sua famiglia, con la sua idea di famiglia, non solo con le sue idee ma proprio con la sua presenza fisica è questa idea trasversale di queerness. Tutto ciò che non è la famiglia del mulino bianco per me e anche per lei poteva rientrare nella questione queer. Quindi figli non di sangue ma anche relazioni non per forza di letto, relazioni plurime quindi una cosa ancora diversa dal poliamore, no? E in un certo senso da questo punto di vista anche io rientro nelle famiglie queer perché io sono una madre single, sono una madre divorziata con una figlia ormai grande e a proposito di parole che mancano allora io non sono tecnicamente una ragazza madre perché quando ho avuto mia figlia ero sposata però si ragionava sul fatto che una donna che ha un figlio e una figlia da sola è una ragazza madre anche quando tecnicamente non è più una ragazza, no? È una ragazza donna madre però donna madre è un po' tautologico, no? Quindi a proposito di parole che mancano cioè una ragazza madre rimane inchiudata alla ragazzitudine per tutta la sua vita. L'altra questione e poi passo la palla a Katie che sulla parte magari anche legislativa no? Della parola in quel senso può dire altro e molto più di me mi è sempre è vera la cosa dei rapporti non di sangue, no? Quindi patrigno, matrigno, figliastro, figliastra, sorellastra, fratellastro e chi si ritrova nella situazione per esempio di entrare, cioè di mettersi in una relazione con una persona che ha già un figlio o una figlia come le persone che frequentano me, no? Cioè io ho un compagno che non è il padre di mia figlia, c'è sempre il problema di come chiamarsi. Allora io non sono ancora o al momento in una relazione così casalinga da far diventare questo un problema, poi mia figlia è grande ormai, quindi mia figlia viene chiamata per nome, no? Non c'è più bisogno di definirla in nuovi ruoli e chiama per nome, esatto, quindi siamo oltre, diciamo che il sogno di ricostruire la famiglia del Murino Bianco l'ho abbandonato da quel D, quindi ecco ormai è sta roba un po' così, famiglia fluida chiamiamola, oltre che queer. Ma chi realmente ha bisogno di trovare un nome come la Step Child Adoption mi viene in mente la storia di un mio ex collega che invece che patrigno e figliastra, dalla figliastra si faceva chiamare babbigno che è una forma già più carina, il babbigno e la mammigna che già sembra una roba un po' quasi masticosa, la mammigna, però tutto sommato babbigno secondo me, sì, però sempre meglio di patrigno e matrigna, perché matrigna si pensa subito a quella di Cenerentola o a quella di Rapunzel cioè al limite, però c'è sempre questo immaginario negativo e quindi babbigno e mammigna mi sembravano una possibilità. Mentre lavoravo in Crusca, sapete che ho lavorato per vendita, ho fatto la Naya all'Accademia della Crusca per vent'anni, è stata una Naya molto più lunga di quella della Corea del Sud che dura due anni, qualcuno ha posto la domanda di bisogna tradurre Stepchild Adoption, a un certo punto era di un paio di anni fa o anche più di un paio di anni fa e Francesco Sabatini, ex presidente della Crusca, che sicuramente conoscete anche dalle sue apparizioni televisive, aveva proposto adozione del configlio, configlio, invece che stepchild, il problema è che mi viene subito in mente giovanotti, l'adozione del configlio, cioè non ce la posso fare, scusate, non so se è per questo, cioè se è per questa cosa che sembra quasi una persona che non riesce a pronunciarlo, che ma purtroppo adozione del configlio non è mai diventato di dominio comune, eppure c'è la scheda sul sito della Crusca, insomma, che potrebbe pure essere interessante. Ecco, questo è il mio primo contributo. Bene, posso rapidissimamente, e pongo la domanda a tutte e due, ma l'unica strada per creare parole è quella che passa attraverso la negazione, cioè se queer significa non normale, poi si troverà una traduzione che non abbia la negazione come presupposto e forse anche per questi legami bisognerebbe cominciare con il mio non padre e poi si trova qualche cosa la essere privativa, però non è un, però è il principio di arrivare a qualcosa che non sia privativo. Cati. Allora, intanto vi devo fare questo passaggio che è un coming out. Da quando Michela è morta io ho accettato solo due inviti a celebrare anche le sue parole e la sua memoria. Uno è stato a Firenze e ne sono arrivati immaginate moltissimi. Uno è stato a Firenze perché un giorno Michela mi ha detto un giorno dobbiamo andare a Palazzo della Signoria e affacciarci dal balcone dove si affacciò quello stronzo innominabile e salutare la piazza. Ovviamente immaginate a chi mi riferisco e quindi io ho accettato questo invito sono arrivato e ho detto all'assessora della cultura io vengo però lei mi deve portare nel balcone dove si affacciò quello lè quello che non ha fatto nessuna cosa buona non è vero che ha fatto cose buone non ha fatto nessuna cosa buona quindi io mi sono affacciata e ho detto guarda Michela guarda qui ci siamo e qui questo momento perché dovete sapere che io ho conosciuto Michela durante la sua campagna elettorale in Sardegna perché l'allora partito in cui io militavo rifondazione comunista mi mandò a sostenere questa improbabile candidata che io dicevo mi ricordo che chiamavo la sera Bertinotti per far lui e diciamo mi reso conto e diciamo questa stramba dice delle cose assurde parla solo in sardo io non capisco niente ma cosa siamo venuti a fare ma poi gli ho detto ma è un autonomista e ho scoperto in realtà un lessico del linguaggio dell'autonomia e dell'autodeterminazione che mi ha insegnato Michela e che mi ha insegnato il popolo sardo il popolo di Sardegna straordinari ma non ci siamo viste per alcuni anni e poi ci siamo ritrovate a Torino perché Michela ha vissuto a Torino e mi ricordo che era casuale eravamo a Torino a una cosa insieme completamente fuori dagli schemi a una cena e io gli dissi scusa Michela ma come mai stai vivendo a Torino lei mi rispose e dice perché sono venuta per una settimana poi mi è venuta nella albirintita e mi sono fermata per un anno questa è Michela Murgia vi potrei raccontare migliaia di aneddoti così e la cosa straordinaria è che Michela è sempre stata un aneddoto e non ha mai lesinato nessun aneddoto mai a nessuno e cioè nel senso che lei era proprio un aneddoto vivente non è che se non conosceva qualcuno diventava o non raccontava no era sempre proprio usci cioè era così un viaggio quindi il motivo per cui non accetto mai questi inviti anche se ne riconosco una potenza incredibile e che ogni volta mi devo calare 30 gocce di rivotril e voi capite che l'assunzione massiva di ansiolitici non fa proprio bene alla salute e così ho fatto anche prima di venire qua perché chiaramente oltre al lutto collettivo c'è un lutto personale ognuno di noi fa fatica a vivere diciamo questo lutto detto questo vi vorrei mi vorrei ricollegare a quello che hai domandato tu e non mi voglio esimere e lo voglio fare leggendo una cosa non l'avevo mai fatta il 9 agosto Michela è mancata il 10 alle 23 della sera il 9 agosto alle 18 un quarto mi manda questo mi manda il messaggio che era l'ultimo capitolo del suo libro sulla filiazione sulla gpa ne leggo solo proprio uno stralcio allo stato attuale dello sviluppo della teoria queer proprio quella q nella sigla della comunità forse non dovrebbe starci affatto il termine queer indica infatti un approccio non binario per questa ragione il fatto che lo usassi disorientava nell'opinione pubblica che mi conosceva con un matrimonio etero alle spalle nessuna dichiarazione di orientamento sessuale era scontato che fossi risolta nel mio essere donna cisgender eteronormata non ero queer e non ero lgbtq i plus da qui in poi senza più la q ero solo un'alleata leale della comunità sgombro subito il campo dagli equivoci sono stata a letto con uomini e donne ma questo non ha definito l'identità personale loro né mia a meno che non fossero loro a volerlo e non abbiamo mai capito perché i rapporti fisici avrebbero dovuto farlo in qualsivoglia modo se mi alzo da un letto in cui sono stata con una donna sono lesbica se lo faccio dal letto di un uomo questo fa di me una persona etero se vado una sera con una e una con un altro magari insieme cosa siamo bisex confusa pervertita qualcuno che deve dare spiegazioni del suo desiderio trasformarlo in qualcosa di normativo anche fuori dalle lenzuola le domande mi appaiono tutte stupidi ma poiché continuo a farmele a meno di non voler trattare le persone gli interlocutori lei usa la sva gli interlocutori gli interlocutrici da stupidi e da stupide a loro volta sono costretta a prenderle gravemente il che Flaiano insegna non sempre vuol dire prenderla sul serio poi continua insomma questo capitolo lei mi manda questo capitolo e mi dice Katie cosa ne pensi e io le rispondo la queerness deve passare dalla sua appropriazione culturale anche da parte di identità non LGBT anzi è proprio quando persone normalmente autodefinitesi eterosessuali che si approprieranno di una visione non totalmente binaria e queer senza confini e strettamente non regolata dalle norme allora la queerness sarà di tutto e perciò di nessuno in particolare che mi sembra la cosa più importante la queerness non appartiene a qualcuno in particolare e io come persona non binaria e queer desidero che chiunque con libertà si definisca nella propria identità senza che nessuno possa dire no tu non sei quella cosa lì lei mi scrive ok la scrivo subito modifica il capitolo questa è stata questo voglio dirvi è uno spoiler perché il libro uscirà uscirà in marzo non so esatto uscirà uscirà però la cosa che io chiaramente cascavo dal pero cioè io cascavo dal pero che Michela in quella situazione di grande malessere fisico e anche diciamo diciamo psichico mi parlava sempre del fatto che persone lgbtq l'accusassero di non poter definirsi queer quando io penso che la cosa più rivoluzionaria sia che chiunque si alzi e dica io sono queer e stamattina quando ho letto l'ultima indagine è uscita una piccolissima indagine dalla vita vista dell'istat dice il 46% delle persone dice di avere una famiglia queer pensate al potere rivoluzionario di aver reso una parola che noi persone queer praticavamo nelle nostre vite di dominio pubblico noi siamo ed eravamo queer prima ancora di sapere di essere queer e Michela ci ha donato questo il fatto di poter dire siamo tutte e tutti e tutte queer e chi se ne frega non è che ci devono dare il patentino né di femminista né di queer né di abbastanza sinistra siamo quello che siamo e va bene così lo eravamo prima e concludo io sono una persona non binaria perché ora esiste questa parola ma prima che esistesse sapete cosa ero comunque non binaria semplicemente non esisteva la parola ma già sei anni se mi chiedevi come mi sentivo mamma non mi sento né maschio né femmina ora esiste questa parola e io sono lieta è felice che esista una parola ma la mia identità esisteva prima di questa parola quindi le parole e qui ringrazio Vera per il lavoro che fa e che fa da qualche anno e che fa quotidianamente che ci ricorda sempre che le parole indicano esistenze percorsi di vita e quindi io voglio essere nominata perché nominata la mia vita e cioè la mia esistenza esce dalla invisibilità questo è quello che Michela ci ha detto dicendoci io vivo in una famiglia queer tutti noi viviamo possibilmente in una famiglia queer e ora lo rivendichiamo anche politicamente questo applauso è per Michela ora e sempre lo rivendichiamo politicamente ma lo viviamo anche e in questo senso vale più che mai il principio che la politica le istituzioni la l'astrazione è lontana dalla realtà in cui il 46% delle persone si riconosce in tutto questo e permettetemi di andare un po' più in là forse Michela ha ribadito anche sia l'autodeterminazione sia la libertà di non autodeterminarsi di essere quello che si è e viverlo senza bisogno di spiegare agli altri e a se stessi che cosa sei e come vivi la tua sessualità la tua sfera affettiva la tua il tuo rapporto di anima con tante altre persone ecco io vorrei tornare su questo principio della negazione cioè che è restrittivo perché ancora una volta non binaria perché bisogna mettere questo benedetta negazione prima siamo ancora costretti a definire in mancanza di parole che l'italiano sta costruendo ma sulle quali ci sono ancora tante assenze da una parte la negazione e dall'altra la privazione cioè l'alfa privativa come come possiamo come dire andare avanti su questa strada cioè voi pensate che queste negazioni queste privazioni possano presto o prima possibile diventare delle parole nuove o siamo come dire vincolati da questo principio di autodeterminazione e definizione delle parole che presuppone l'uso di prefissi e dei suffissi che sono assenze più che presenze mazza un domandone questo cioè voglio la telefonata a casa no no ma la casa allora dunque ci sono la relazione fra il piano della realtà il piano della lingua è una relazione molto complessa da una parte sicuramente funziona in maniera molto trasparente che se cambiano delle cose della realtà noi esseri umani abbiamo questo afflato onomaturgico come diceva Bruno Migliorini cioè di dare nomi alle cose perché dare nomi alle cose e qui per cose intendo tutto dare nomi alle cose vuol dire poterne parlare come ricordava Katie giustamente e poterne parlare vuol dire passare da una cosa che non si conosce e c'è aliena a qualcosa che invece si conosce cioè lo xenos quello che ci fa anche paura da che la xenofobia come ci racconta Talmo Pievani diventa invece qualcosa che conosciamo perché lo nominiamo e io e te ne possiamo parlare e poi ne possiamo parlare tutti insieme e in questo modo facciamo amicizia con cose nuove anche e questo è una direzione di mutamento che è evidente cioè non abbiamo nessun problema a nominare una cosa nuova il senso inverso del movimento invece è meno noto è spesso anche abbastanza sottovalutato cioè il fatto che cambiare le parole o inventare le parole per parlare di qualcosa che sta mutando può aiutare a mettere a fuoco il mutamento stesso può in certi casi accelerarlo il modo in cui chiamiamo le cose non è indifferente perché ogni parola non vive in una specie di iperuraneo nel vuoto pneumatico ma vive di rapporti con tradizioni credenze conoscenze pregiudizi giudizi metteteci tutto quello che volete quindi quando noi cambiamo il modo di chiamare certe cose può cambiare piano piano anche la realtà anche se l'influsso non è diretto nella maggior parte dei casi cioè non siamo dico sempre non siamo nel mondo di Harry Potter voglio eliminare tizio dico avada che davra e quello schianta mi piacerebbe molto a volte ma non funziona così no ci vuole un po' di più premesso che esiste un ramo della linguistica che è la teoria degli atti linguistici avrete sentito parlare di John Austin che indica che invece ci sono delle parole che hanno un mutamento diretto che provocano un mutamento diretto della realtà ad esempio se io sono una sindaca e dico vi dichiaro marito e moglie quell'atto ha un valore se sono una poliziotta e dico ti arresto quell'atto lì linguistico poi ha una conseguenza pratica eccetera eccetera però in generale non funziona così quando però iniziamo a chiamare le cose in maniera nuova per esempio invece di chiamare una persona un uomo omosessuale invertito lo chiamiamo omosessuale o gay o qualcos'altro cosa cambia? cambia che io passo da una parola che connota cioè da anche un giudizio oltre che indicare qualcosa a una parola che denota cioè che tutto sommato non dice né positivo né negativo semplicemente indica una caratteristica allora in alcuni casi si possono cambiare le parole con cui si chiamano le cose in altri casi e questo mi viene in mente da quello che dicevi prima si può arrivare a una risemantizzazione per esempio in molti paesi matrimonio indica sia quello fra due persone di sesso diverso sia quello fra due persone dello stesso sesso qualsiasi cosa siamo ancora più larghi in Italia c'è un fronte di opposizione all'allargamento dell'idea stessa di matrimonio a coppie non eterosessuali e questa resistenza viene giustificata con motivazioni etimologiche matrimonio matrimonium vuol dire munus matris e quindi il compito il dono della maternità il compito della madre il munus patris sono i soldi il patrimonio è faccenda maschile la donna invece porta la sua possibilità di essere fecondata e di generare la vita e allora c'è una frangia della nostra società che dice non possiamo allargare il concetto di matrimonio a una coppia omosessuale adesso semplifico perché tanto questa gente mica usa un lessico tanto più raffinato perché quella coppia non genera vita allora in realtà in molte altre lingue in cui matrimonio comunque ha la stessa etimologia dal latino eccetera semplicemente il concetto si è allargato cioè la parola è stata sottoposta a quello che viene definito un allargamento semantico così come fuoco focum originalmente voleva dire fuoco del focolare domestico e poi in italiano è andato a indicare qualsiasi tipo di fuoco allora ci ha messo un po' di anni sì tu parlavi di famiglia no? la famiglia queer ecco se io prima parlo di famiglia queer ma poi piano piano la famiglia queer diventa una famiglia trattante senza dover trovare una parola nuova famiglia semplicemente includerà anche tutte le sue forme cioè può al suo interno includere qualsiasi diciamo setting familiare possibile e anche quelli a cui ancora non abbiamo pensato è una questione di tradizione di storia che noi attribuiamo alla parola ma è una storia che nel corso del tempo può anche venire cambiata cioè le parole subiscono questi cambiamenti semantici questi cambiamenti di dimensione dopodiché è anche possibile che ora rimarchiamo la non binarietà perché comunque siamo una società profondissimamente binaria e non solo a livello linguistico a livello di cabine elettorali a livello di bagni a livello di elenchi di qualsiasi natura ma infatti mi sembra un grandissimo passo in avanti ma a livello di medicina a livello di qualsiasi cosa apro una piccolissima parentesi si è appena iniziato a parlare di medicina di genere che finalmente ci si è resi conto che un corpo femminile non funziona esattamente come un corpo maschile meno un pochino di chili perché finora i trial venivano fatti così quante donne qui dentro hanno avuto delle irregolarità del ciclo mestruale in seguito al vaccino anti-covid questa è una cosa che è venuta fuori un anno e mezzo dopo che ci si è iniziati a vaccinare e io pensavo di essere in menopausa francamente l'età ce l'ho menopausa precoce dopo qualcuno ha detto ups ci siamo dimenticati di testare il farmaco sulle gli effetti sul ciclo mestruale ma è una cosa abbastanza normale abbiamo appena iniziato a parlare di medicina di genere c'è un enorme campo che è completamente chiuso la medicina transgenere cioè andrologi androloghe ginecologi e ginecologhe letteralmente non sanno dove mettere le mani quando si trovano davanti una persona trans cioè non sanno chiedono consigli io ho tanti premesso che ho molti amici trans molti di questi amici amiche trans mi dicono io vado dal medico dalla medica e questa mi dice mi dica lei cosa fare perché non ho idea capite che abbiamo un problema di visione binaria della società allora per ora non binary marca una distanza da questa visione binaria un giorno magari inventiamo qualcos'altro la lingua è in realtà diciamo no voglio dire è quello che ha detto Elena è come dire è una domanda anche interessantissima cioè le nuove parole perché si affermano in in contrapposizione o spesso con una A privativa davanti in verità rispetto alle identità non è esattamente così io potrei dire che appartengo al terzo genere però sembrerebbe il terzo segreto di Fatima nel senso che il terzo genere no non sto scherzando il terzo genere è stato oramai riconosciuto anche dall'organizzazione mondiale sanitaria e in realtà di terzo genere parlavano nell'antichità gli antichi egizi addirittura nella nelle popolazioni nativa americane sceglievi c'erano alcuni bambini a cui era possibile scegliere quale genere avrebbero impersonato le parole tuttavia potrei dire una cosa come sono gender fluid che però è leggermente diverso da non binaria perché io diciamo non ho le persone sono anche a gender o gender fluid vuol dire che in maniera infatti qualche anno fa ci definivamo gender fluid perché questa fluidità non è da tutti vissuta e da tutte e tutti vissuta io vivo proprio una rassegnazione di fronte a una società completamente codificata in base al binarismo maschio femmina e voi direte vabbè ma in che cosa dovrebbe essere in cos'altro dovrebbe essere codificata io vi posso portare gli studi di stati che hanno deciso di abolire in gran parte della loro legislazione la suddivisione in generi maschile e femminile e il beneficio che ne hanno tratto in termini di decostruzione di alcuni ruoli di genere di stereotipi di burocrazia di tutta quella quella cosa che in qualche modo escludeva l'inclusività a partire dagli spogliatoi dai bagni cioè di tutte le persone che comunque dentro il binarismo maschile e femminile non si sentono a proprio agio sono persone siamo persone non cisgender in questo momento siamo considerate tra il 7 e l'8% della popolazione nei posti che si identificano diciamo con delle democrazie o con diciamo o presunte tali e quindi come dire e gli studi ci raccontano di proiezioni nella generazione 0 e nella gen Z e nella generazione X di una fluidità rispetto alla definizione della propria identità di genere rispetto al proprio orientamento sessuale che arriva a dire che il 54% delle persone che oggi dei giovani che oggi hanno tra 12 e 15 anni nel 2030 si definiranno studio Ipsos condotto negli Stati Uniti fluide rispetto al loro orientamento sessuale 54% vuol dire cioè la maggior parte ovviamente la statistica cambia tra baby boomer millennials gen z e esatto cambia cioè cambia no oggi nel 2030 la maggior parte dei baby boomer dei millennials l'84% si definirà ancora eterosessuale quando tutto questo sarà cambiato cioè quando rispetto all'identità e all'orientamento sessuale questa diciamo sopraffazione del numero per cui a me domandano ma perché bisogna ancora fare coming out perché sennò danno tutti per scontato a meno che non fai come me passing come soggetto sicuramente non proprio cisgender e non esattamente eterosessuale a meno che non hai il culo di fare passing io ho una compagna che deve rimarcare e addirittura star lì a dire no no ma te lo giuro una compagna lo deve affermare perché non ci crede nessuno e allora c'hai pure la sfiga di fare passing come etero quando invece non sei eterosessuale allora fino a quando continueremo a ragionare in termini di maggioranze che schiacciano le minoranze tu avrai sempre bisogno di dire ehi esisto anche io ci sono ci sono a me mi fa incazzare questa cosa ma perché dovete sempre precisare ma chi se ne frega con chi vai a letto ma scusami ma come devo sempre precisare scusami ma se in ambiente di lavoro qua ci sono delle diciamo persone con cui lavoro e abbiamo fatto questo ragionamento dice ma scusate al lavoro si parla di calcio della performance scolastica dei figli del tinder date del giorno prima di qualsiasi cosa io però non posso parlare dei problemi che ho con la mia compagna cioè è una vita mutilata a te che sei un soggetto eterosessuale non te lo dicono che è una cosa che devi relegare alla stanza da letto perché a me che sono omosessuale mi dicono ma chi se ne frega cosa fai nella tua stanza da letto cioè il mio orientamento sessuale ha una dimensione pubblica un risvolto pubblico e la politica deve comprendere questo guardate io ho sempre pensato questo che chi governa deve fare leggi per tutta la cittadinanza non è che deve approvare le scelte di vita di tutta la cittadinanza deve legiferare e governare tutta la cittadinanza che è una cosa completamente diversa e invece noi viviamo in un piano politico in cui la politica vuole indottrinare e schematizzare e ingabbiare le nostre esistenze anche utilizzando la legge questo io lo ritengo folle lo ritengo una deriva pericolosissima perché le leggi servono ad aiutare a migliorare le vite non servono a dire quella vita non deve esserci non è giusta siccome io la disapprovo rendo la sua vita una gincana guardate quello che succede con le famiglie omogenitoriali e poi concludo cosa succede che rendono talmente tanto difficile avere una famiglia omogenitoriale che uno pensa io non la faccio invece le famiglie le continuiamo a fare semplicemente rendiamo quelle vite di quei bambini una merda perché voi ditemi se è normale che a sette anni ti cancellano una madre o un padre una cosa è folle e nell'interesse del minore e lì mi dite dove sta l'interesse del minore a vedersi dalla mattina alla sera un genitore depennato e mi dite qual è l'interesse dello stato a farlo e mi dite perché io devo pagare le tasse per avere una procura che invece che indagare sulle mafie vuole togliere un genitore a un bimbo di sette anni cioè quindi è l'uso politicizzato della legge che noi dobbiamo avversare con tutti i mezzi possibili che non significa avere dall'altro lato altrettanta magistratura politicizzata significa occupare come abbiamo fatto il 25 novembre le piazze con i nostri corpi e mettere dei paletti dietro a quelle leggi che noi riteniamo essere indissolubili quella per esempio sul diritto all'aborto è una di quelle leggi su cui va costantemente messo un paletto perché in questo paese non esistono diritti acquisiti nessun paese ma in questo paese in questo momento non esistono diritti acquisiti in eterno esistono diritti che stanno scricchiolando da tutte le parti e poi esistono continue politiche che mettono in discussione dei diritti che noi pensavamo avere acquisiti e dati per assodati chissà perché i miei interventi finiscono sempre per essere un comizio politico stavo per dirti grazie del comizio ma era un grazie sincero io non lo so tutti i miei interventi finiscono sempre per essere un comizio politico forse perché ce n'è bisogno chiedi no ma non tornerò a fare politica io non l'ho interpretato come un comizio politico l'ho interpretato come un appello a quei diritti che dovrebbero essere assodati e ovvi e non lo sono però se ogni tanto i politici parlessero così non guasterebbe trova un politico che dica qualcosa di sinistra e soprattutto ascoltando mi veniva il dubbio che forse questo questi paletti e questa e questo cancellare una genitorialità così hanno come obiettivo quello di far cambiare idea a queste persone alla fin fine così facile che è un obiettivo ritorno a CIS per favore io lo dico loro non hanno idea loro non hanno idea dopo che una persona ha vissuto sulla propria pelle io ho fatto coming out a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani nel 1996 lo stragismo e il mio coming out erano sullo stesso piano nel mio paese capite? quindi dopo che io ho vissuto sulla mia pelle non la discriminazione di una persona ma di un intero paese e quella che ha ferito di più me è stata la discriminazione che ha vissuto la mia famiglia perché io sono scappata a studiare all'università ma mio padre mia madre mia sorella per dieci anni non l'hanno invitati nemmeno a mangiare una pizza nemmeno al compleanno ho capito dei figli mia sorella e i miei nipoti non venivano invitati al compleanno perché la zia era un'invertita adesso vado al paese sono una star l'onorevole quella coi follower ma io non dimentico non dimentico quello che hanno fatto vivere alla mia famiglia quindi dopo che ho vissuto questo col cavolo che io sono diversa da come sono no dovete fare i conti con me con la mia identità e se non vi sta bene io ve la presento quotidianamente fino a quando non capirete che la mia identità non vi toglie e non aggiunge nulla è mia non è vostra cosa vi cambia com'è la mia identità io riconosco della Michela in questo discorso ecco perché possiamo tornare a Michela per un altro giro su io vi chiederei di raccontarci come secondo voi siccome appunto io sono partita dall'idea che le parole ci mettano millenni a cambiare millenni a farsi inventare millenni a sparire dai radar ascoltandovi in fondo sono un po' più ottimista perché sia l'esperienza e la competenza sulle parole sia l'esperienza e la competenza di vita mi avete raccontato una storia un po' diversa un po' più rapida come dire e allora credo che sia giusto a questo punto porvi non la domanda ma insomma la riflessione su Michela come fattore di cambiamento quanto è cambiata la realtà con lei da lei e grazie a lei forse dipende per chi sicuramente ci sono tante persone per cui la presenza di Michela su questa terra non ha fatto la differenza ma ci sono anche molte persone per le quali credo le parole la voce il tono di voce usato anche da Michela che non si scusava ha fatto molto a me ha insegnato due cose tra le molte che mi ha insegnato e fra tutte le discussioni che abbiamo avuto una cosa che Michela mi ha permesso di comprendere e di riabbracciare è la rabbia Michela era una che si incazzava e era anche una che teneva dei musi rancorosissimi ad interim cioè era anche una molto cioè io conosco di persone che che non sono più riuscite a ricucire ma magari per un fraintendimento così perché questa era molto quadrata noi abbiamo sempre litigato poi abbiamo sempre fatto pace ma una cosa che lei mi ha insegnato è sacrosanto essere incazzati non si può sempre come si può dire gestire tutto sorridendo e porgendo l'altra guancia e obiettando in maniera delicata gentile e pacata ci sono dei momenti in cui bisogna rovesciare il tavolo ora la rabbia femminile in particolare è soggetta nella nostra società al cosiddetto town policing per cui si fa la polizia del tono voi femministe avreste anche ragione ma non si possono dire le cose così uno dei cartelli più in vista più visti delle manifestazioni del 25 novembre è stato not all men gne 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 che è geniale perché è una risposta ai classici io Milo Cotonio Serraglia li chiama i giamprostata i giamprostata sono quelli che quando tu parli di problema sistemico della violenza di genere ti rispondono ma non tutti gli uomini sono così grazie al cavolo tanto per citare Katie perché sennò io direi di peggio ok allora quel cartello ha subito un town policing pazzesco alla voce eh ma però voi non potete fare non potete reagire così non potete prendere in giro perché queste sono cose serie eccetera allora uno degli ultimi discorsi che abbiamo fatto con Michela è stato prenditi la tua rabbia politicizzala cioè fanno una cosa politica non nel senso politica da parlamento politica nel senso di polis e non la ricusare e quindi l'altra cosa che mi ha detto è guarda da donna che porta avanti certi tipi di istanze tu subirai sempre una un comportamento specifico che è un'altra caratteristica di questa società che è il famoso minchiarimento il minchiarimento è quando gli uomini ti spiegano cose che tu sai benissimo e questo ne parla se stavo guardando il libro appunto qua stai zitta che è forse il libro di Michela che preferisco e nell'ultima parte lei parla proprio di questa cosa qui di come lei fosse abituata al fatto che arrivasse Giantizio senza nessuna competenza a spiegarle la letteratura sarda il femminismo le cose di cui voi femministe vi dovreste occupare perché ovviamente l'agenda ce la deve definire appunto Giantizio mica ce la definiamo noi quindi ecco per me quello che mi lascia Michela è giustificare il fatto che io sia incazzata per le cose che ha detto anche Katie è vero che io ufficialmente sono etero cis bianca eterosessuale cisgender di mezza età non è colpa tua non è colpa mia non tutte le donne non tutte le donne non ti scusare noi ti vogliamo bene lo stesso io lo so lo so e io vi voglio bene ma vi dirò anche un'altra cosa spesso in questi ultimi anni mi sono chiesta se fossi cresciuta in un contesto diverso sarei altrettanto lineare ecco come orientamento sessuale come definizione di sé non lo so perché in fondo io sono il prodotto di una certa società e quando mi hanno chiesto come mai sono così interessata alle questioni queer me lo sono chiesto perché per alcuni è una specie di fetish di kinkiness mi piace avere a che fare con la queerness non è questo ci ho pensato ho riflettuto con l'analista ho speso un sacco di soldi dall'analista gli ho pagato la casa io ti ho incontrata tra l'altro quando tu avevi iniziato mi chiedono tutti perché sai io lavoravo all'università facevo ricerca poi inizia poi esplosa sta cosa mi domando perché sì ma perché ti fai queste domande ma perché perché a me piace farmi domande del cazzo ma la risposta che mi sono data è questa allora io vengo da una vita di disturbi alimentari ne parlo anche nei libri non è un coming out sono stata anoressica a lungo adesso lo gestisco un po' meglio però la cosa che mi ha lasciato l'anoressia è una completa disconnessione fra come mi sento e come è il mio corpo quindi non è una questione di genere ma cioè io io sono dismorfofobica e quindi non mi riconosco nel mio corpo quando mi chiedono ma allora come ti vedi avete presente grandi navi veloci che entrano in porto ecco così mi vedo questa è la mia autopercezione ripeto ho speso soldoni dall'analista ma questa cosa non mi è passata allora questa cosa di riflettere su dove è il mio corpo fisicamente come sta all'interno della società forse è il trade union con la queerness è la mia personale queerness che è un po' diversa magari da quella che ci si può aspettare ma come dici tu queerness è sentirsi queer e io sicuramente non mi riconosco nella normalità nella maniera in cui è dipinta da questa società sono una roba un po' strana e voglio continuare anche a occuparmi di queste cose anche in nome di Michela e in nome in nome di mia figlia alla quale vorrei lasciare una società in cui lei potesse essere quello che vuole dunque e poi ci avviamolo sì lo so abbiamo il tempo lei è al treno l'hai detto con un po' di cattiveria no no lei è al treno è vero e dunque vorrei dire questa cosa che secondo me Michela nel giro anche di un breve tempo ha compiuto una serie di grandissimi diciamo ha favorito una serie di cambiamenti ok e ne elenco alcuni per esempio la sua rassegna della domenica che mostra come gli uomini hanno tutti un nome un cognome le donne sono giulia giulia martina mamma stefania cioè sono astrofisiche la mamma astrofisica l'imprenditrice valzugana cioè sono o da dove vengono o il loro ruolo o hanno un nome personale e basta e questa cosa ok sia nella vita che nella morte perché anche ma pensate togliere il cognome a una vittima di femminicidio ma perché si deve chiamare Giulia si chiama Giulia Cecchettin cioè le vogliamo dare un nome e un cognome ecco questa cosa qui per esempio io l'ho non solo imparata ma credo di averla impartita a chiunque chiunque cioè io l'ho impartita ai miei nipoti a mia sorella ai miei genitori a tutti i miei avvocati e a tutte le mie avvocate a tutte le persone che lavorano con me sui social cioè sono diventata diciamo se volete anche bulgara perché penso che nell'educazione bisogna essere lievemente per alcuni momenti molto avere una fermezza in quella posizione Michela quando la chiamavano la murgia le dicevano in televisione sentiamo cosa mi pensa la murgia lei rispondeva la murgia è una bellissima zona della Puglia io mi chiamo Michela murgia rispondeva sempre così allora io ho imparato questo che le donne hanno un nome e un cognome come gli uomini ho imparato che anche se io tutta la vita ci avevo me mi ero fatta un culo tanto e volevo dire che ero avvocato io sono un'avvocata avvocata anche se sono una persona non binaria perché vado in tutti i posti e ricordo sai che una donna può fare questo mestiere come un uomo altrettanto benissimo tu non hai nessun problema a ritenere cacofonico segretaria maestra ma ce l'hai a ritenere cacofonico ritieni cacofonico ingegnere architetta avvocato fatti due domande fatti due domande e quindi io lo dico proprio lì lo dico proprio come gesto dito in un occhio esatto gesto politico e identitario la terza cosa l'articolo femminile davanti a tutti i cognomi no di donne quando ti chiamano quando la la torre poi diventa la la torre no la la torre la boldrini la gruber la meloni cioè io ho imparato a togliere quell'articolo al femminile perché anche dietro quel meccanismo c'è sempre una cosa e cioè che l'uomo non devi sottolineare che è un uomo la donna devi sottolineare che è una donna ma perché dobbiamo sottolineare che è una donna cioè è un fatto è un fatto ci sono gli uomini ci sono le donne non è che siamo lì a dire il sallusti no a specificare il genere il feltri il sgar lo sgarbi possiamo dire che lo sgarbo semmai è maschio quindi deve finire no non è che stiamo lì a sottolineare ma così non sai se è una donna se tu non metti l'articolo non sai se è una donna tu lo devi sapere se una donna è una donna ma perché lo devi sapere e concludo dicendo che una volta quando avevo 19 anni dove andai a Luciana Castellina dissi senti Luciana ma quando è secondo te che ancora facevo politica e perché come si vede io ancora quando avevo 19 anni e ancora facevo ancora quando ancora facevo politica era perché avrete notato che ho un passato in cui facevo politica allora allora dissi Luciana ma secondo te in politica quando è che raggiungeremo più o meno la parità tra gli uomini e le donne sapete cosa mi rispose Luciana quando accanto a un politico stupido vedrai una politica stupida e la guardai e le dissi non ci avevo mai pensato perché alle donne viene chiesto il merito agli uomini mai ma perché se un uomo è là nessuno gli chiede perché sei là mentre se una donna è là le chiedo se sei una donna amministratrice delegata se una donna è manager se una donna è arrivata a una posizione di potere le domandano come hai fatto ad arrivarci che percorso hai fatto fiumi di interviste su come una donna è arrivata lì e fiumi di parole che hanno a che fare con il merito la tenacia la determinazione ma a un uomo glielo chiediamo mai perché è lì mai diamo per scontato che quell'uomo è lì perché se lo merita ecco io penso che per esempio Michela questo abbia scardinato tantissimo e abbia messo sul tavolo una quantità di temi e chiudo dicendo sette anni fa lei in un'intervista ha detto e non si parlava di patriarcato da nessuna parte lei ha detto esiste il maschile e il femminile ed esiste questa ingiustizia che si chiama diseguaglianza che le donne vivono in mille sfaccettature diverse il femminicidio è l'apice ma parte dal fatto che siamo sandwich schiacciati tra i lavori di cura delle famiglie che abbiamo costruito e quelle di provenienza e lei diceva questa è un'ingiustizia di fronte all'ingiustizia non si può essere neutrali o si prende parte o si è complici non esiste la neutralità not all men non esiste non esiste se lo dicono gli uomini non esiste nemmeno dire no ma io non sono una donna maschilista perché la responsabilità è sempre collettiva e la battaglia è sempre collettiva il treno ce l'hai tu sì vabbè correrò no volevo solo aggiungere una cosa rispetto all'eccezionalità delle donne che riguarda i nomi delle vie ci sono pochissime vie intestate a donne che non siano sante martiri morte male insomma no ecco e lo so che hai scritto l'articolo ma studiando la cosa la cosa interessante è questa mi viene risposto che non ci sono vie intestate a donne famose perché ci sono poche donne che hanno fatto cose importanti no allora vado in giro per la città e trovi la via via Mario Giuseppe Rossi segretario della sezione dei monculi sopra Empoli cioè intendo a dire che ci sono delle vie intestate anche a persone maschi microscopici dal punto di vista storico o della famosità in compenso le donne devono essere sempre eccezionali viene sempre richiesto questo fatto di essere fuori dal comune per arrivare nei posti e ripeto la toponomastica ce lo fa vedere in maniera molto chiara al di là di tutte le persone che dicono il patriarcato no non c'è il patriarcato in Italia non c'è da 200 anni il patriarcato è stato appena detto da un eminente filosofo che non nominerò insomma c'è ancora tanta strada da fare grazie però si fa però si fa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti